è giù, in fondo è giù perché c'è un bombardamento se mi ripingate c'è un bombardamento ho bombardato lì venite, venite se andiamo avanti c'è il muro se andiamo avanti c'è il muro qui non c'è niente anche io però placche qua c'è niente questi non avevano un cazzo? no, ci sono placche ci sono maschere mi fulgo e ce le butto maschere anche ti butto le placche tranquilli eh fatevi ingaggiare tra di loro sono a sinistra mi stai guardando nella fuori mappa mi lagga sono là sotto avanti a sinistra occhio occhio fatevi ingaggiare tra di loro fatevi ingaggiare tra di loro fateli ingaggiare tra di loro li vedo li vedo e da movimento come fa a one shot time? vieni indietro vieni indietro che siamo insieme se mi ha sparato puoi vincere come fa a one shot time? ovvio tranquilli 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 io ne ho ancora fatto uno tranquilli erano più placche erano più placche vieni vieni ne ho otto venite qua dai oh venite qua prendete velo le butto fanno ingaggiare tra di loro stiamo alti qua stiamo alti qua sulla torretta ho messo la torretta ho messo la torretta ho messo anche il toffee occhio occhio sono lì sotto uno guardia a sinistra uno guardia a sinistra uno lo vedo là dietro adesso lo piombo lo cecchino non è bombardamento no lo fatti andare tutti lo fatti andare a due occhio che sono là sotto uno 40 metri davanti a noi dritto 40 metri ok occhio è uno a sinistra che spada qui sotto sinistra che spada giù morto non è ultimo occhio gli altri sono più vicini è sicuro sono sotto la collinetta davanti a noi secondo me sbrighiamoci ciasi in arrivo zona sicura riposizionata dovete eliminare tutti i nemici rimasti ce ne due faccio da esca voi sparate dai no no aperta 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 e ci hai dato le placche e ci hai dato le placche e ci hai dato le placche e avevi il legale della vittoria avevo tutto avevo tutto Ugo io ti ho tenuto tutto a salvo fino alla fine ti ho tirato su tranquillo io ero la parte che ti teneva tranquillo mi fa da giro giusto perfetto non si può saltare questo pezzo dai no è bello del video eh ti ho fatto nel video è una adesso voglio la doppietta proprio